Ora ci trasferiamo nel Lovodoro, in particolare nella sub-regione del Coros. E se vogliamo raccontare un pochino, ossia, è possibile fare un viaggio attraverso le sue chiese, quella di San Martolomeo, poi quella di Santa Margherita, di Sant'Antonio, le Necropoli, Bogeiche, in particolar modo quella di Meso e Montes. Un altro paese che si racconta attraverso la sua cultura e soprattutto con questa formazione attraverso i balli e attraverso i suoni di quel percorso che è stato ereditato come un filo della memoria che viene conservato nel tempo. L'applauso per il gruppo Fon, Città di Ossi. Ben trovati anche a voi, protagonisti di questa serata. Sarà Guido Vercellino ad accompagnargli con il suo organetto, un vortice di suoni e soprattutto di balli che in questo caso, come dicevamo, ci riportano nel cuore del Logo d'Oro. Quali saranno i balli che ci proporrete? Banno due, due e due, danza o sempre. Noi gli facciamo un applauso accompagnati da Guido Vercellino, gruppo Fon, Città di Ossi. Grazie. 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 Grazie.